salve a tutti e benvenuti e ben ritrovati nel canale siamo qui di nuovo oggi con questo grandissimo gioco atomic art prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale lasciare un bel like e se vi va anche un bel commento ragazzi siamo oggi qui per fare la missione ma soprattutto ma fare anche il campo di prova numero il terreno di prova numero 8 a quanto pare la missione compare esattamente sull'edificio del terreno di prova che è questo qui e ci arriviamo subito e noi vogliamo fare nient'altro che arrivarci e vedere come si vive con la missione solamente così possiamo accendere questo terreno vi consiglio di non fermarvi ho già esperienza in questo posto quando venite qua ragazzi non avrete questa porta aperta per niente quindi dovete andare qua vi faccio vedere tutto il percorso lungo andare qua salire non avete neanche quella botola aperta tutti i video sull'internet questa cosa non la spiega nessuno ragazzi avete me che la spiega solamente così potete entrare ragazzi solamente dopo aver fatto la missione o ritiravete un po' di tempo tutto il mondo mi è venuto a pushare dovrete questa situazione che io prima non la vivo ovvero il morto prima il morto non c'è niente c'è questa che parla sentite ok dovete hackerare questo coso hackerando questo coso accedete a questa telecamera se non riuscite a quest'altra telecamera poi accedete a questa telecamera vedete e dovete hackerare questo bidoniere che vedete qua se ne ha solo una la bidoniera più difficile da hackerare si trova qua questa qui vedete se fate lo scan vi uscirà un altro R1 lì in basso e voi lo dovete hackerare io già l'ho hackerato quindi non esce nessuno R1 fatto questo l'ultima bidoniera sta proprio in questa posizione lo potete hackerare con queste due telecamere che adesso non so il perché non mi fa cedere non capisco il suo gioco vabbè hackerato questi due punti potete entrare se non avete fatto questi due punti non potete entrare detto questo io continuo con la macchina vabbè voi scendete qua ci sta pure questa cosa da usare a proposito cose che io mi sono saltate invece ecco il cadavere lì a terra che facciamo un disco chiave abbiamo preso un disco chiave che non so cosa contiene in questo passo è la parte di un disco chiave in questa posizione in questo caso costruzione e non lo facciamo un disco di scendere per la porta e per la popola se mi sono accadute io ho paura di scendere per la porta del trofe da qualche parte nei dintorni compagno maggiore abbassa il volume si apriamo questa porta che succede? ecco che serviva comunque ragazzi stavo pensando che secondo me il terreno di prova lo fai dopo la missione esatto ci sono capitato per caso l'hai ucciso basta Victor sono morti in troppi l'ho solo tramortito è svenuto ok essere o non essere questo è il dilemma se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dargli d'atroce fortuna o prender armi contro un mare d'affanni opponendosi per loro fine no no è sbagliato non sono d'accordo scusa Larissa ma non riesco proprio a capire lui ha rovinato tutto e tu? sono un dottore e sono già morte fin troppe persone oggi persone? lui è un animale un cane rabbioso salterebbe alla gola di chiunque se glielo ordinasse seggiorno Victor è legato gli programma una cura e ce ne andiamo dove? nessuno verrà a salvarci lo sai e questo pazzo ci ha rovinato il piano di fuga lo so lo so ci inventeremo qualche cosa io non credo lasciatemi andare e prometto che sarà veloce è indolore ma guarda sentilo si è appena svegliato e ci sta già minacciando si esatto vi sto minacciando quante persone hanno fatto fuori i vostri robot senza nessun avvertimento duemila o forse tremila non è colpa di Victor è stato un malfunzionamento 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 e allora perché il tuo ragazzo non ha neanche un graffio? ma di che stai parlando? non è ovvio il Vavilov il VDNH i robot stanno attaccando tutti tranne voi due com'è possibile se non li controllate? eh? Victor? avevi detto che tu non c'entravi niente e tu gli hai creduto quante altre stronzate ti avrà detto? Victor? non avevo altra scelta un malfunzionamento non sarebbe bastato come hai potuto? eh? come ho potuto? ma se l'hai detto proprio tu che il mondo poteva finire? non mi toccare! non le avevi detto proprio niente grave errore ehi ma che fai? calma calma Larissa aspetta Larissa! ora niente ti salverà stronzo abbiamo l'amichetto P3 a Celomei Petrov è fuggito di nuovo sembra che ti piaccia dargli la caccia Nicef Petrov non deve interferire con il lancio del Collective trova quel criminale adesso ok Ago compagno maggiore cazzo non mi dire non starmi addosso ok? ok ok ragazzi qui c'è solo l'utare senza che ve lo faccio venire ok ok vabbè di là Stupida classificazione. Spero che chiunque l'abbia inventata sia fortunata tanto quanto me. Sì, anch'io. Di cosa stai parlando? Sto parlando della classificazione sociale, NICEF. Tu non te ne sei mai dovuto preoccupare perché appartieni a una categoria speciale. Ma noi, la gente comune, ne siamo piuttosto dipendenti. Specialmente se vogliamo ricevere qualsiasi cosa che non sia un semplice pensiero. I modelli più avanzati sono disponibili in colori come Stella Rossa del Cremlino. Scusa, ci conosciamo? Sì, certo che sì. Ero nelle risorse umane. Conosco tutti e posso dirti la loro classificazione sociale. La mia era quasi quella più in alto. E quindi rimanevo a fare gli straordinari. Perché mi sarebbe bastato lavorare solamente altre otto ore in più per salire in classifica. Sarebbe andato tutto bene se un bastardo su cinque non avesse cominciato a provare ad alzare la propria classificazione prima del trattamento polimerico, provocando una svalutazione sociale. Sei davvero morta per un gingillo luccicante? Scusami, devo scappare. Questa non ha niente da dire proprio. Ho perduto il tempo. Allora ci ha detto cane cattivo non mi prenderei mai quando andavo di qua. Perchè io qua io che appado. Perchè io qua io che appado. Questo qua niente. Ma devo scendere? Dove uscire? Dobbiamo uscire ragazzi? Dobbiamo regalire. Dobbiamo uscire ragazzo. Ma che stai nella stia? Cosa stai in un'ora? E' un'ora di raffreddato E' un'ora di straccio Perché non dov'è si provare a raffreddato? E' un'ora di raffreddato E' un'ora di raffreddato E' un'ora di raffreddato Ma vedi che vuoi troppo spari che non vico avvalo ci siamo più forti ragazzi, me lo facciamo in meglio si questa si trasforma missione a terreno di prova ok ragazzi abbiamo questa situazione un altro terreno di prova dovrebbero esserci dei progetti militari lo immaginavo senti bibliotecario chiacchierone dove trovi le informazioni sui progetti militari in questi cosiddetti laboratori civili perché non dovrei averle dopo tutto sono un dispositivo creato in circostanze estreme per situazioni estreme certo un agente della squadra speciale capisci fin troppo bene compagno maggiore o almeno lo farai presto cosa era la mia occia credo si debba andare di là verifichiamo cosa c'è con penetrazione di cose che bello mi fa mettere bene sti cassetti guarda che sto sotto intelligente eh bello il gioco l'unica cosa ha sbagliato sui cassetti bravi 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 i collaudi sismici sono necessari per valutare la resistenza dei materiali di costruzione e degli edifici stessi durante un terremoto i test sono eseguiti utilizzando una speciale piattaforma vibrante che imita i movimenti sismici del suolo sovietico i risultati garantiranno la sicurezza dei cittadini della madre patria negli edifici progettati dalla struttura 3826 l'unica Sì, non è vero. Sì 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 Sì. 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 Questa è la situazione che abbiamo, credo in qualche modo che c'è qualcosa nel salire qui, no? Ho bisogno sbagliato. Vediamo quel cavo, devo fare questa male. Ok, questo è il risposto, perfetto. Il gioco ci dice che non è cosa. Proviamo a fare un giro turistico prima di cosa. Ok, no ragazzi, che si ferma qua, questo è il capolino. Quindi dobbiamo seguire solo una strada, non è tanto difficile. Vabbè, allora, è colpa mia. Bello. Ok, riproviamoci. Dai. Dai. Ho favorevoci, dai. Pensavo di cadere. Ok, di là si ritorni indietro. Credo che di qua si va. Ok. Prendere sta cosa. Vabbè, penso di aver capito allora. Certo. Ok. Cerchiamo di non saltare. Solamente qui. Ok, ripeto. Credo di aver capito. Ok. Ok. Adesso. E abbiamo risolto un altro problema. Questa è la pedana. Oh, ci provo. Sono qui. Sì. Eh. Ok. Teniamocelo un momento in marco. Ah, ok. Si può salire, ragazzi. Non so, l'espai. Ok. Non so. Non so. Non so. Non so. Ok, non so. No so. Non so. Seppuro. Non so. Ok, ci siamo riusciti, perfetto. Armi, armi... ricevuto. Se possibile dovremo trovare altri terreni di prova. Eh, qui non si può andare da nessuna parte. Vabbè, siamo arrivati al capoglino. Prendiamo la roba. Abbiamo un potenziale per le asce. Progetto sbloccato, perfetto. No! No, ragazzi, non volevo prendere l'ascensura. E chissà se si scende giù, mo? No! 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 No!